La misura 16 Cooperazione del PSR Campania 2014-2020 nasce con l'obiettivo di promuovere un partenariato tra aziende, enti di ricerca e altri soggetti per sviluppare un'idea altamente innovativa in campo agricolo e forestale. Datevi un'idea! Una nuova idea può essere un nuovo prodotto, una nuova pratica, un nuovo servizio o magari un nuovo processo di produzione. Ci si unisce in un team di progetto in grado di sviluppare una proposta di innovazione. Per fare questo, la Regione Campania attiva la sottomisura 16.1, sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Nel dettaglio, la misura è articolata in due azioni. Sostegno per la costituzione e l'avvio dei gruppi operativi. Sostegno ai progetti operativi di innovazione. L'azione 1 promuove la costituzione e il funzionamento di gruppi operativi, affinché possano sviluppare un progetto operativo di innovazione. Si parte da un team di progetto, che potrebbe essere formato da agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare, con almeno un'azienda agricola localizzata nel territorio regionale. Il team deve presentare una proposta di innovazione, che darà luogo successivamente alla definizione di un progetto operativo di innovazione, che potrebbe trovare sostegno nell'ambito dell'azione 2. In sintesi, l'azione 1 accompagna il team di progetto a evolvere in gruppo operativo e fornisce gli strumenti affinché una semplice idea progettuale si tramuti in un progetto più puntuale. Il finanziamento per questa prima fase è di massimo 50.000 euro, la durata di 12 mesi. Il sostegno per le attività svolte sarà comunque riconosciuto, anche se il progetto non sarà selezionato e finanziato con l'azione 2. L'azione 2, quindi, promuove la realizzazione ed iniziative di cooperazione a carattere innovativo. Denominate progetti operativi di innovazione concepite dai gruppi operativi. Maggiore l'affidabilità del gruppo, la chiarezza degli obiettivi da raggiungere, la coerenza e la qualità del progetto in termini di innovazione nel settore agricolo e forestale e la sua successiva applicazione, maggiore la possibilità di accedere al finanziamento. L'importo massimo ottenibile è di 750.000 euro, la durata del progetto 48 mesi. Il bando completo è consultabile sul sito www.agricoltura.regione.campania.it. L'Europa investe nelle zone rurali.